La grande battaglia tra Fedez e Leone. Chi vincerà? Voi che ne dite? Sai dove andiamo adesso? Andiamo in un paradiso fiscale a evadere il fisco. No, non possiamo andare perché io sono un supereroe. E che consenso? Oh no! E' la scossa delle ragni a te! Io adesso rapirò Lady Gaga. Ma non puoi che sia? Invece vado a rapire Lady Gaga. No, io adesso devo rapire Lady Gaga. Ok, non la rapisco più Lady Gaga. Sei monelissima e non puoi nemmeno scappare. No, no, no. Allora sai cosa faccio? Vado a rubare dei gratta e vinci. No! Ha vinto il supereroe Leone. Il grande Leone ha battuto Fedez. Papà Fedez è stato battuto. Go! Oh no! No! Non. No! 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 Grazie.